È vicino alla soglia delle 50.000 firme necessarie per la proposta di legge popolare per l'inserimento del principio di insularità nella Costituzione italiana. A poco più di un mese dalla fine della raccolta, il Comitato per l'Insularità sta per tagliare il primo traguardo che si è posto per modificare la Costituzione e far riconoscere nella Carta Costituzionale il principio dell'insularità. Quanto sottolinea il Presidente del Comitato, Roberto Frongia, che insieme alla FASE, la Federazione degli Emigrati Sardi in Italia, aderitò all'iniziativa. Se la fine magia, il Presidente della FASE rileva come il problema dell'insularità si trascini da anno e non si risolva. Per questo abbiamo deciso di lavorare con chi affronta questo tema e ha voglia di trovare una soluzione. Con la firma possiamo esercitare il nostro potere e diritto facendo a conoscere questo problema anche ai continentali. In questa campagna portiamo le firme non solo degli emigrati ma anche di tante persone che hanno abbracciato questa causa. Sono infatti gli emigrati sardi a toccare con mano quotidianamente le difficoltà connesse con lo stato di insularità. Trasporti a costi spesso impossibili, al di là di quanto previsto dalla continuità aerea che interessa comunque solo Milano e Roma, lasciando fuori tutti gli altri scali della penisola. Carotrasporti che diventa un macigno per tutte le attività economiche presenti in Sardegna, dall'agricoltura all'industria al turismo. Costi extra rispetto agli altri cittadini italiani che vengono pagati a caro prezzo dall'isola. Da qui la richiesta di compensare questo svantaggio geografico obiettivo con la formalizzazione della costituzione del principio di insularità.